E Natale su misura in Corso Roma, Montecatini Terme, prosegue con il Gallery Shop e qui c'è la nostra amica Rossella, buonasera, facciamo entrare il nostro operatore. Allora qui per questo Natale su misura, che sorpresa è preparato ai nostri telespettatori? Natale su misura perché noi abbiamo scelto sempre regali più belli dal punto di vista, perché poi alla fine un regalo bisogna anche che sia scelto con un gesto, che sia scelto, che alla fine abbia una finalità e quindi soprattutto poi noi quest'anno abbiamo tanti articoli in negozio, ma abbiamo pensato di ideare che ci porti un oggetto che hai scelto e noi te lo impacchettiamo. Questa è bella, ma andiamo alla nostra telecamera a curiosare su questa faccenda? Andiamo a vedere. Pacchetti su misura, mi diceva Rossella che qui ci sono una vasta scelta di carte, sempre rigorosamente marchio Cartos, per fare i pacchetti e ora vedrete che sorpresa. Pacchi personalizzati e con questa bella carta? Una carta particolare con l'impressione anche a oro in polvere e con la scelta del nastro, con la scelta... E io sto già curiosando la tua collaboratrice che sta facendo, cosa sta facendo? Sta facendo la personalizzazione con la ceralacca. E loro non lo possano sentire perché non l'hanno ancora inventato, ma non sentono il profumo della ceralacca. Esatto, proprio tutto questo è riferito all'artigianalità e al fatto su misura. Praticamente col sigillo scegliete il sigillo con l'incisione, con la scritta auguri, oppure con l'iniziale della persona a cui vai il regalo. Allora, sai che ti voglio dire una cosa? Metti che io compro un regalo da un'altra parte, non lo so, mi è venuta questa idea. Posso venire qui con un regalo comprato da un euro a un mercatino, però ci voglio sto pacchetto con le iniziali, con la ceralacca, con tutta questa carta bellissima? Esattamente, vieni qui da noi, pacchettiamo con la carta, il nastro che scegli te, il sacchetto e anche il biglietto se ti manca, ti forniamo anche quello. Questo è bellissimo, sì? Tutto di rigore italiano, made in Italy, con l'esclusività dei disegni e della particolarità che è tutta nostra italiana. Cose particolarissime su misura, ma a Gallery Shop qui a Montecatini Terme, in Corso Roma, anche una vasta scelta di articoli in pelle, oggettistica e ancora sorprese? Ma anche fragranze e profumi, un'esclusiva qui a Montecatini Terme, Acqua dell'Elba. Questo è un mondo, una meraviglia, una magia di profumi, vieni qua Rossella, cerchiamo di trasferire le nostre emozioni di questa cosa che hai tu. Fantastiche, sono candele americane dove c'è un'intensità di profumo esclusivo, fatte con oli essenziali, tipo questa che prendevi te, è con la cannella, un'esclusiva proprio di un profumo natalizio prettamente. Poi si spazia dalla vaniglia, qui bisogna mettersi lì e odorarle una per una e te ne innamori. E questo che faremo, quindi Gallery Shop a Montecatini Terme, in Corso Roma, c'è Rossella e non solo Rossella che vi aspettano. Grazie a tutti.